Inizio Grazie. 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 E' perso. E' ero 7 punti perchè io ho giocato bene. E' un po' da mia. Ma loro neanche che stavo mettendo dentro la bocce non mi fanno. E' brutta. Io e te per un altro, io e te per un altro. E abbiamo chiuso. E' un altro io e poi io e te. E' un altro io e poi io e te. E' un altro io e poi io e te. C'è po se povere cosa da linea, osは. Wow. Era quello. Era così, abbiamo fatto io ò poi è che avevo quel life butcio? Cos'è pochèว è che avevo lo pari ai 7. Occolo anche questo esempio. E' un po' più. Lo pari memecio di compagno sul posbore di cane mai. E' ma quello che abbiamo sbagliato io? Vei rimini! Avevo la guerra tra però in słabo davvero non mi sembra che tro troppo diventa la suaML appeared Grazie a tutti. Grazie a tutti.